Radio Bruno Estate Domenica 30 giugno, la prima tappa del tour Dalle 20 e 30, sul palco di Piazza Sordello a Mantua Malika Yan Stavio Nesli Luca Carboni Paolo Belli Marco Ligabue Rio E dal programma The Voice, Timoti Cavicchini Presentano Enzo Ferrari e Melita Tognolo Radio Bruno Estate Domenica 30 giugno, in Piazza Sordello a Mantua Ingresso gratuito